Eccoci, non molliamo ragazzi, non molliamo perché siamo tesi per l'ultima puntata. Comunque buon mercoledì, mercoledì 25 di maggio, ultimo giorno dedicato alla grande puntata di sabato sera che Luca Calbucci, Claudio Zanardo, Stefania e Fabio Stefanelli, tutti i miei ragazzi, tutto lo stadio di emozioni e tradizioni ci hanno regalato, anzi speriamo di aver regalato a tutti quanti voi. Allora, oggi è il momento di ascoltare il clarinetto di Luca Calbucci, questo grande successo, io l'ho suonato tante volte perché quando Gabriele Zaccherini faceva parte della mia orchestra era un brano che avevamo messo in repertorio, perché comunque, a parte che è un brano difficilissimo, però dà lustro al clarinetista, ma soprattutto era per omaggiare anche noi come orchestra Bergamini la tradizione Vittorio Borghesi. Allora, prima il grazie alle edizioni Novalis e poi Luca Calbucci con Mr. Clarino. Ascoltatelo. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giovagnoli, Paolo Rinaldini, Luca Bergamini. Goodbye, un tributo alla leggenda Poo. Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me, cosa centro io con quella gente e con lei? Ti fernerà la musica, l'aria di venta elettrica. Un uomo non si addomestica, le corde risuonano forte, la molla è carica. Chi fermerà la musica? Goodbye, il tour in tutte le feste e piazze d'Italia. Grazie a tutti. 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 Poi, proprio voi da casa con questo numero che potete ancora utilizzare, perché fino a venerdì potete utilizzare, fino a venerdì mi raccomando, continuate a votare tutti i 42 brani che vi abbiamo fatto ascoltare. Grazie a tutti. 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 24. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.